e io devo secondo me dovremmo fare una sigla cantata di una quarantina di minuti che facciamo noi così all'intento arriva la gente ma secondo me se la gente entra e noi stiamo cantando non arriva più io la voglio cantata da allora tu mi fai i testi e io la canto oppure io ti faccio il testo e tu la canti come vuoi saluta e grazie anche a te e ha fatto tutto da solo dato che nessuno dice mai saluto ho fatto io eh ma perché tra l'altro che cosa posso pubblicare il video su youtube è un augurio di salute ah sei in salute è un augurio di salute si stai crepando ti auguro di essere in salute sì ma sta evidentemente lasciando le sue ultime stai lasciando le sue ultime mozzo magari magari è un modo per dire in realtà saluta nel senso che esatto saluta ciao ciao chi si vede può capitare ragazzi questo era l'ultima live di Kuro comigliate che male quanto abbiamo cringiato bene stasera oggi Giorgio ci farà da presentatore è perché vai in vacanza perché in realtà è l'ultima live di tutti è un tema molto interessante è l'ultima questa è l'ultima questa è l'ultima live di Kuro di quest'anno di quest'anno io ho capito che tiravamo ancora un po' dopo ci sono le vacanze le vacanze fino all'anno prossimo a dicembre Simone aveva detto questo l'ultima volta può essere non mi ricordo minimamente però vabbè Simo io ho quello che dici è l'unica tra l'altro che l'ascolta quindi ottimo è perché ancora è poco tempo che fare live con noi ok comunque se nel frattempo si è radonata un po' di gente non lo so perché non vedi i numeri almeno tre persone probabilmente uno sono io uno è Giorgio perfetto quindi ce la cantiamo e ce la balliamo da soli bellissimo no vabbè in realtà appunto l'argomento di oggi come si è faccio lo spam intanto se lo fa Umberto la gente viene in che senso perché ci hai visto diversi sensi rispetto a quello che ho detto ecco Ale Pozzi ciao mi è caduta una bottiglia no mi è caduta una bottiglia vuota c'è Ale Pozzi addirittura lui è arrivato prima che mi andassi in segno potere pelato potere pelato curoato curoato il mio potere mi ha chiamato Ale Pozzi Alessandro Pozzi che oggi sul gruppo Tega diceva di non sapere cos'è un IP quindi cominciamo da cos'è un IP cioè una proprietà intellettuale banalmente ti viene un'idea ti viene un'idea hai un personaggio hai qualunque roba che è richiudibile sotto proprietà intellettuale la registri e quella è tua e gli altri non la possono utilizzare senza pagarti questo qui in soldoni ora perché si è deciso stasera di parlare di IP in realtà non me lo ricordo l'idea è venuta a me ma non mi ricordo dove mi sia venuta va bene così va bene così in ogni caso si parla di quello che faccio o no? ah sì ha fatto dei Mignone ah sì con un'eventualità bizzare sul Topolino no Mignone e Topolino è venuto fuori dopo mi era venuto in mente perché nella stessa settimana oltre ad averci lasciato l'autore di Yu-Gi-Oh! che sulla questione IP e utilizzo dell'IP ha uno sviluppo tutto molto particolare soprattutto il rapporto tra il manga e le numerose IP che ci sono e poi perché è ricicciato fuori con una data di uscita al film di Dampier della Bonelli quindi l'utilizzo in un senso cinematografico delle IP bonelliane che erano boh due o tre anni che erano sparite nel dimenticatoio e pare che esistano e che escano una settimana prima di Lucca il 22 ottobre 20 ottobre comunque esce è una parola non consentita padre perché? ora l'ho consentita perché mi aveva bloccato il messaggio di Aleppo comunque ragazzi dobbiamo fare qualcosa per questo bot comunque che banna la gente comunque posso dire una cosa mi voglio fare un piantino in live per la morte di Kazuki Takashi perché vedo che ogni volta che muore qualcuno ogni volta che muore un autore bisogna sempre fare questo o un video o una live con gli occhioni tristi come se ti avessero bastonato il cane così dove dici no ragazzi io vi giuro vi giuro Kazuki Takashi per me voleva dire tantissimo come se fosse mio padre guarda io ho bagnato di lacrime salate tutte le mie vecchie carte di Yu-Gi-Oh scusate ma forse dovrei farlo entrare io ho letto io ho letto qualcuno io ho letto qualcuno è quello vero è quello vero ciao Simone ciao metti via i bambini Simo ricacciali nel seminterrato i bambini cosa fa di notte Simone ma a rapire i bambini ma no gli ha appena donato i poteri di toro comunque ragazzi detto una cosa io ho letto uno serio che ha detto tipo adesso ogni volta che leggo il nome di Kazuki Takashi dietro le carte di Yu-Gi mi viene da piangere ho letto uno serio che l'ha scritto ma veramente siamo arrivati a questi livelli di bisogno di attenzioni magari è vero c'è la gente che si affeziona guarda quella che fanno questi quella che fanno i pianistei solo per quelli giapponesi se non occidentale neanche una mostra anche non li conoscono chi ha fatto il pianisteo per Team Sail ad esempio li conoscono tre li piangono tre bravo complimenti ma non è vero io penso prossimo prossimo che muove tanto non manca molto farò una live di chi stessa basta per gli autori basta io capisco che si possa dire cioè si può anche fare con dignità il ricordo di un autore senza fare il maledettissimo necrologio dell'internet del ragazzo è morto ragazzi c'è sono proprio addolorato c'è l'ho sentita l'ho sentita non l'hai mai visto non sai neanche che faccia ah dai madonna che palle vabbè detto questo possiamo continuare col tema mi tiri fuori dalla memoria Gemma del Sud o una simile in epoca quasi pre-youtube che tirava fuori che piangeva disperata grazie Michael Jackson grazie quello che ha fatto la musica Michael Jackson disperante comunque poi vediamo pure gente che nell'anniversario di Dante dirà ah Dante perché è così giovane Dante me lo ricordo io Dante comunque sì parlando di proprietà intellettuali e di Kazuki Takashi lui è una cosa particolare perché Kazuki Takashi aveva iniziato a fare questo manga questo manga che si chiamava Yu-Gi-Oh che era su una sorta di stole enigmista versione liceale giapponese i primi numeri di Yu-Gi-Oh erano praticamente classica società giapponese liceale in cui ci sono i teppisti grossi come una montagna che picchiano i ragazzini più deboli le varie gerarchie dei teppisti e tutto Yu-Gi è questo ragazzino piccolino magrolino il più sfigato degli sfigati della scuola che però è molto bravo nei giochi e nei puzzle risolve il puzzle del millennio quindi quando qualcuno gli pesta i piedi si trasforma nel faraone in una sorta di suo alter ego non uno spirito che esce dal puzzle che in realtà non si sapeva neanche fosse un faraone all'inizio doveva essere più che altro una versione oscura di lui e faceva il gioco della sanzione ed era un gioco che poteva essere qualsiasi gioco non il gioco di carte collezionabili noto a tutti ad esempio il primo teppista lo sbaraglia con una sorta di gioco con le carte da poker poi un altro teppista nel bar gli fa fare un gioco di non far rumore quando appoggiare il jack delle cuffie sul bicchiere d'acqua e non far rumore perché la minima vibrazione può far cadere il jack e perdere e sono tutti giochi un po' del contrapasso una sorta di contrapasso dantesco in questi giochi ed era molto figo non era però niente di eccezionale diciamo ce l'era un manghetto tamarro così era bello poi ha introdotto nel numero era il numero 7 dell'edizione plane la sortiletta ha introdotto il gioco di carte che non si chiamava Yu-Gi-Oh ovviamente non si chiamava Duel Monsters come è diventato noto nell'anime si chiamava Wizards and Warriors il gioco di carte di Yu-Gi-Oh all'inizio quindi lui gioca Wizards and Warriors conosce Seto Kaiba e quella era soltanto uno dei vari giochi che Yu-Gi doveva Yu-Gi e Yami Yu-Gi dovevano affrontare era solo un altro modo per avere il gioco della sanzione e infatti prima è un gioco di carte normalissimo che si gioca sul tavolo come i ragazzini al parchino poi diventa invece un gioco in cui nel gioco delle ombre nel gioco della sanzione che gli fa i Yami Yu-Gi a Kaiba i mostri escono dalle carte ed è la prima volta che i mostri escono dalle carte ed escono per una sorta di magia non ologrammi sì Seto Kaiba inizialmente aveva i capelli verdi bravo Ale Poz che se l'è ricordato e praticamente c'è come me ce l'ha andato a cercarselo in questi giorni perché poi si è ha capito che la tinta che aveva fatto faceva cagare e è tornato lì si se li è decolorati l'hanno fermato a questo blocco poi il fatto è che per Kazuki Takashi quello era solo un gioco come gli altri poi si era già passato a un altro gioco perché già nel capitolo successivo o qualche capitolo successivo Yugi affronta Mokuba il fratello di Seto lo affronta a un altro gioco che è tipo Capsule Monsters dove ci sono tipo due monsters ma i nostri stanno tipo in degli ovetti e quindi per Kazuki Takashi era già passato oltre quel gioco di carte non gli interessava già più no? e poi la gente fa no però aspetta signor Takashi aspetti un attimo era molto figo quel gioco di carte Ale Poz ha appena confermato di aver guardato un anime illegalmente io ve lo dico oh no vabbè la season zero non è mai arrivata in Italia illegalmente comunque e tra l'altro c'è il film della season zero che è l'unico prodotto di Yu-Gi-Oh in cui si vede un personaggio che compra e apre una busta di carte fateci caso cioè non si vede mai un personaggio che sì nel film della season zero c'è il ragazzino che trova il dragonero Kierossi nella bustina e lo compra e è sempre tutto molto magico perché lo compra non tipo da un edicolante ma da questa sorta di rivenditrice che è una sorta di cartomante che però ha la scatola con le bustine di Duel Monsters lì sopra deve anche arrivare a fine mese quindi apre e trova però ha fatto andare ha sbusta il dragonero Kierossi e la tipa Red Eyes Brecco Doragon è una delle carte più forti del gioco è una carta leggendaria vabbè comunque fatto sta che non mostrano le bustine nel gioco di Yu-Gi-Oh perché non vogliono incoraggiare non vogliono farvi no no perché dopo fanno le mani a gente che compro le bustine ogni volta è pieno di peggio sole perché diciamo le probabilità quanto voglio le metti comunque non è semplicemente per mantenerlo sul sul magico sul le carte nuove appaiono nel mazzo a Jaden arrivano i neospaziali direttamente da un'altra dimensione quindi a me capitava di giocare sì sì anch'io ogni tanto mi prendevo il mazzo ma sta carta da dove viene sarà arrivata da un'altra dimensione poi 6.000 carte sempre diverse sì sì un matto da 40 carte ma con dentro 6 miliardi di carte per un qualche motivo comunque fatto sta che IP vuol dire intellectual property proprietà intellettuale comunque dicevo sì alla gente piaceva l'idea del gioco di carte nella serie spingeva nei lettori di Jump per renderlo un elemento sempre più preponderante della serie finché la serie stessa non è diventata sinonimo del gioco di carte nonostante non fosse partita così e giustamente essendo un gioco di carte così di successo in un manga vuoi non fare il suo equivalente nella vita vera così è nato Yu-Gi-Oh! che è uno dei giochi di carte collezionabili più popolari al mondo belli del mondo vogliamo dirlo più uno dei più belli del mondo no belli il cazzo cioè magari lo è stato magari bello adesso è vabbè comunque si è vero è vero non c'erano nei primi nei primi duelli non c'erano regole ognuno faceva il cazzo che voleva e io ancora mi ricordo mi ricordo da bambino quanto mi sono arrabbiato quando c'erano Yu-Gi e Kaiba che si sfidavano per decidere chi doveva affrontare Pegasus per primo lì nel torneo sull'isola di Pegasus e praticamente Kaiba era rimasto con 50 life points una schifezza si mette sul bordo del castello così fa tu attaccami pure Yu-Gi lo spostamento d'aria mi farebbe cadere di sotto lo spostamento d'aria del corpo e io da piccolo pensavo ma sono ologrammi non esistono c'è l'unico ma c'è l'unico ma c'è l'altro loro spesso Barra cioè Yu-Gi Barra spesso Yu-Gi Barra sì sì il migliore è che lui Barra ma io ecco sì il cuore delle carte il culo delle carte la sera del giorno la sera del giorno che è morto Kazuki Takashi nel mio intimo per commemorarlo mi sono riguardato il primo film di Yu-Gi-Oh su Netflix La piramide di luce madonna e mi sono stupito le versioni italiane sono inguardate cioè le versioni americane sono veramente e io mi sono stupito di come Yu-Gi veramente si inventasse le regole tipo evoco cavaliere della regina e così posso evocare anche cavaliere del Jack e cavaliere del re non è vero vabbè ma inizialmente tipo nell'anime non c'erano i sacrifici cioè tu faventate da 8 stelle guardate che comunque andando lo stesso avanti anche cioè io ho un mio amico che si è fissato fino all'inverosibile ok con Yu-Gi-Oh nell'ultimo periodo della sua vita però in modo è morto nell'ultimo periodo della sua vita sembra così nell'ultimo periodo della sua vita il mio amico scoprì Yu-Gi-Oh e poi questo lo portò alla morte nel regno delle ombre l'hanno portato è la versione 4Kids nel regno delle ombre perché letteralmente ogni volta che cioè ci usciamo parla di quello però la questione è che lui si è guardato di conseguenza praticamente tutte le serie anche ottimo per curiosità le guardo bene anch'io solo che non si trovano a me vedo che non ci stanno sia su Netflix che su Bride e io me le devo pure riguardate ma non tutte non ci sono quelle c'è soltanto quella classica e comunque fatto sta che semplicemente cioè non è solo la parte vecchia il problema no però il problema allora anche i nuovi sì ma le regole dei nuovi sono un po' diverse in genere però le regole ci sono nei primi episodi era tipo uso la carta allora uso questa carta uso la carta delle spade liberatrice che colpiscono il castello però ora vanno via e quindi il castello cade ma che capire c'è la luna quindi sale la marea e i miei mostri d'acqua e i miei mostri superano il tuo alla tua muraglia sì la questione è che sì magari ci sono adesso delle regole ma comunque in ogni caso cioè a volte usano regole inventate o tipo per comodità di trama perché ma perché Kazuki Takashi stesso non sapeva le regole giuste quando ha iniziato quando ha scritto il gioco e questo è il fatto Kazuki Takashi non le sapeva Zexal ok Zexal vabbè ma lascia perdere Zexal che fanno la pescata del destino di lui che diventa super lui diventa biondo e fa la pescata super ti giuro lui diventa biondo e fa la pescata suprema della carta che proprio gli serve io questo lo chiamo barare che sia un potere magico o no lo chiamo barare eh sì è barare nell'anime le carte arrivano prima che nel gioco di carte esattamente partono nell'anime e poi fanno la carta nel gioco per cui essendo questo un IP funziona così e quindi inevitabilmente le regole quando le devono inserire nel gioco reale devono farle un attimino in modo che funzionino nel gioco di carte volevo dare un po' lo zio che io ho rubato brutalmente a Umberto e adesso mio bimbo bacini allo zio di Dario Dario vergognati non si deve vergognare ha scritto un gioco senza scriverne le regole in realtà non è che ha scritto un gioco semplicemente doveva essere una cosa così marginale inizialmente che non è neanche stato a pensare alle regole ha pensato solo ci sono i mostri e ci sono altre carte che fanno altre cose i mostri hanno un attacco e una difesa il più forte vince cioè questo era il suo gioco di carte come l'aveva pensato Takashi la primissima volta poi è chiaro che andando avanti con le serie ha dovuto strutturarlo per favore metti l'ultimo l'ultimo di ideale perché si chiama cuore delle carte perché fan culo le regole io e i capelli pettinati con il di agra non suonava tanto bene tornando al discorso al tema Kuro ci vuoi delucidare su IP anche su le carte su come c'è stato l'IP su no l'IP no va bene ok Davide ti prego rispondi alla tua stessa domanda perché voglio capire cosa volevi sapere no dell'IP sugli uki yode non farmi ridere mentre bevo ridi mentre bevi ingoglia che merdazza che sei ridi mentre bevi avete fatto andare via prova a spiegarmi la tua domanda Davide dp tu dicevi prima che avevi fatto il collegamento con gli uki yode di cosa vuoi parlare di questa cosa di questo di come un'idea che era partita come qualcos'altro e che se fosse rimasto quello che era sarebbe stato un manghetto da due soldi che avrebbe chiuso dopo 30 capitoli se andava bene e non ne avrebbe parlato più nessuno in realtà sai che involontariamente ha creato Bakugan beh involontariamente ha creato un po' tutti gli giochi tanti no ma perché dicevi che appunto era passato al secondo gioco che erano mostri delle sperette vabbè battle spirits pure se è per questo vabbè poi c'è anche dice monster quando quando quello che in in inglese avevano chiamato duke devlin e quello con l'orecchino col dado ciao scriva ciao scriva e non mi ricordo come si chiama in originale comunque lui giocava a dice monsters che era come duel monsters però con i dadi ci provavano perché takashi durante la pubblicazione del manga ci ha provato più e più volte a smettere di fare le carte a smettere di fare le carte ma più che altro a dire oh le carte stanno andando fortissimo facciamo anche altro adesso le carte ok adesso ci sono anche i dadi comprate i dadi no i ragazzi volevano le carte ovviamente che triste cioè io mi immagino lui imprigionato nel suo stesso nella sua stessa creazione a questo punto che cazzo gli è freguto ha iniziato a essere invaso dominato dal denaro che gli pioveva addosso e ha detto no sai cosa io non sono d'accordo su questa cosa cioè nel senso personalmente se io creassi un qualcosa di ok figo va benissimo bellissimo però dopo sarei solo costretta a fare quello per tutto il resto della mia vita no no ma lui lui ha fatto la prima serie non si ne occupa più da bo più niente lui ha fatto 34 volte tipo 30 volumetti non so quanti sono in tutto perché l'edizione italiana era tipo 36 37 ma sono meno e dopodiché non ha fatto praticamente più niente lui quindi ha guadagnato tutto il resto solo dicendo perché ho dato l'idea io immagino che abbia i diritti sul gioco pensate che un Natale un Natale ormai del tipo il primo anno che mi ero infognato ero all'elementare mi ero infognato malissimo con Yu-Gi-Oh! stavo a giocare nel doposcuola e mi mettevo il drago bianco chi blu in cima con il mausoleo dell'imperatore per pescare entrambi e evocare subito il drago bianco al primo turno io baravo tantissimo e ora scopriamo come faceva Yu-Gi a pescare sempre le carte che voleva faceva come me io baravo tantissimo ma non vi spazzavate i mazzi a vicenda no cioè vi infidavate quelli no allora sì ma io facevo di metterle di tenermele il drago bianco e il mausoleo dell'imperatore e poi dopo che avevo fatto alzare il mazzo le mettevo in cima senza che se ne accorgessero poi dopo un po' se ne sono accorti perché non potevo partire sempre con quelle due carte in mano però comunque sono riuscito a vincere per un bel po' quello che stavo dicendo era che il primo Natale che mi ero infognato malissimo con Yu-Gi-Oh! i miei genitori scusa Babbo Natale mi aveva portato il gioco per Game Boy Advance di Yu-Gi-Oh! ero felicissimo ce l'avevo ce l'avevo ma forse non avevi quello che avevo io perché l'idea di poter giocare a Yu-Gi-Oh! su Game Boy mi piaceva tantissimo non vedevo l'ora lo metto dentro ed era una sorta di gioco dell'oca con le carte era originale era originale ma era una sorta di gioco dell'oca non è quello che avevo io era un gioco dell'oca dove tu controllavi un personaggio di Yu-Gi-Oh! c'era c'era Yu-Gi c'era Jono Uchi c'era My Valentine c'era Seto Kaiba c'erano tutti i personaggi di Yu-Gi-Oh! e tu dovevi muovere ogni turno tiravi un dado mettendo su ogni faccia un mostro e poi avanzavi nella cosa di un tot di caselle pari al livello del mostro evocato ed era una sorta di chi raccoglieva più cose sul tabellone oppure chi arrivava prima non me lo ricordo però non giocavi a Yu-Gi-Oh! no decisamente non era quello che avevo io ho preso una sala simile una cosa che era tipo uno pensava capito te danno Yu-Gi-Oh! eccetera invece no era una specie di scacchi con i mostri di Yu-Gi-Oh! che dovevi posizionare tipo RPG così ma quello era anche abbastanza figo però io sì però uno sperava capito nel gioco dei casi io non si riuscivo a giocare perché praticamente io non avevo capito che tu ero piccolissimo non avevo capito che tu potessi mettere un mostro per ogni faccia del dado questo è il fatto io non avevo capito che tu potessi io penso puoi mettere un solo mostro su una sola faccia del dado e quando lanci il dado devi pregare che esca e quindi e quindi io mettevo un mostro su una faccia del dado lanciavo il dado e ovviamente non usciva praticamente mai però agli altri giocatori i bot usciva continuamente il mostro ma come fanno ma come fanno ma che culo poi una volta ho scoperto che puoi mettere un mostro su ogni faccia e lì il gioco ha iniziato a piacermi vabbè no io ero quello in cui eri tipo un illustre sconosciuto che partecipavi al campionato di sto cazzo e quindi dovevi batterti prima con dei personaggi fatti apposta per il videogioco e poi con i protagonisti del manga slash anime ma era anche carino era anche carino soprattutto quando arrivavi poi alle battaglie un attimino più più difficili era figo era così quello per il DS di 5Ds che mi è piaciuto allora il mio gioco di Yu-Gi-Oh preferito in assoluto tra quelli che ho giocato è Yu-Gi-Oh GX Batman Spirits qualcosa ah l'ILDS sì per il DS quello dove sei quello è bello sei lì nel campus di Yu-Gi-Oh ed è una sorta di punta e clicca è una sorta di punta e clicca dove tu sei ti puoi creare il tuo personaggio e tu sei uno studente di dell'accademia dei duelli nel dormitorio nel dormitorio Slyfer Rosso quello dove erano anche Jaden e come si chiamava il ragazzino con i capelli blu quello con i roi con il deck roid ma chi se ne frega vabbè lui comunque c'era sei nel in quel dormitorio lì no e tu rivivi tutte le vicende di 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 Yu-Gi-Oh GX fino a un certo punto ovviamente ma il tuo personaggio è da protagonista con Jaden che lo supporta e ti puoi anche scegliere uno spirito tu durante l'avventura guadagni degli spiriti che sono dei mostri fondamentalmente e che puoi sceglierne uno e diventa il tuo spirito custode io usavo sempre Jerry l'uomo fagiolo perché mi piaceva un sacco e e questo ti stava dietro durante i duelli e avevi un qualche tipo di bonus da quel da quel che mi ricordo ed era molto figo perché era un punto e clicca c'era tutta la mappa dell'isola tu andavi in giro sui vari dormitori sui vari luoghi di interesse eccetera e cercavi di seguire la trama ed era era molto lento era molto lento perché il più delle volte andavi a cliccare ovunque se facessessi combattimenti per un sacco di tempo oppure però c'era era del figo tipo quello là delle prove che tu dovevi avevi già la partita incostata e tu cercavi di iniziare no no stiamo parlando di un ricordo e basta stiamo potendo parlare dai manga qual è il miglior gioco di Yu-Gi-Oh va bene ok Kunio vai Illumi parlaci di altre cose basta move away from Yu-Gi-Oh basta anche perché anche perché l'idea della serata doveva essere sulle IP che salgono e che scendono e come mai che so Topolino adesso è diventato meno popolare dei Minion così eh ma giusto per dire no vabbè oddio io la roba dell'IP mi era venuta in mente per Yu-Gi-Oh perché è un caso particolare in cui il manga è diventato famoso perché c'è stato un gioco di carte tratto e c'è stato quel quel balzo lì che è una cosa che non succede spesso in realtà nell'IP spesso o nascono prima i giochi e allora poi fai vai a fare il diciamo una serie anime cioè una serie anime o a cartoni se il gioco occidentale o un fumetto un mango o quello che volete relativo a che si usa tanto si usa tanto adesso anche con i videogiochi mentre invece è è un caso quasi particolare quasi unico il fatto che si parta da una roba che aveva anche le carte assieme a tante tante altre cose e questo piccolo questa piccola parte dell'IP diventa un boom internazionale era quello quello che in realtà mi interessava di Yugi in questo senso qui è il vantaggio di avere la stessa IP su media diversificati alla fin fine se una delle varie incarnazioni riesce a fare breccia in un certo settore si porta tra e non tutto il resto è per questo che si fanno poi tanti prodotti derivati che siano pupazzetti o altro recentemente lo so sarà meno sarà meno emozionante di UGO però se pensiamo a Elsa lì della del film della Disney praticamente con tutti i suoi pupazzetti ha quasi fatto sparire Barbie dall'idea delle delle bambole per bimbi come era successo con le Wings che anche loro ci hanno dato una bella botta vero il problema di quel tipo di giochi lì è che soprattutto per ragazze non ha mai avuto un corrispettivo forte mediatico di altro tipo cioè ci sono i film di Barbie ma mio Dio sì infatti sì è vero specie primi facevano anche abbastanza spaventi non solo ma è successo anche da noi se tu ricordi ai tempi c'era quando c'era Big Jim Big Jim andava il suo potente brazzo che poteva fare solo così ma andava il problema è che poi sono arrivate cose che erano collegate a connessione programmi tv ad esempio i men i masters i G.I. Joe e presero molto di più cancellando così non parlare dei master che non sei esperto non li hai vissuti pezzo di merda io sì ragazzo guarda che gli unici che possono parlare dei master alla prima uscita siamo io e Giorgio io no io piangevo non ho mai avuto uno li guardavo su negozio e piangevo io alla prima uscita tra l'altro mi sa di no li ho beccati quando è uscito il cartone il cartone da noi ma credo dopo non li ho mai avuti in realtà ma perché non mi sono mai interessati i giocattoli io li ho quasi tutti a me non sono interessati io ero un fan ammetto che era il mio periodo di bambino ricco quello poi c'è un grande decadenza no io a livello di IP io non ho avuto un valgiero io a livello di IP collezionavo un casino roba dei Power Rangers di Sailor Moon di Sailor Moon ero completamente stupida ma io ero già grande quando c'era i Power Rangers eh io no avevo 6-7 anni la prima serie la primissima serie quando sei arrivato in Italia e se no anche i Transformers che in realtà li avevo conosciuti con la serie di Biocombat però poi avevo cominciato a collezionare tutti io ci andavo fortissimo di Gormiti da piccolo perché perché c'era c'era l'Umber e quando andavo al campo estivo io come amico avevo un Umberto nel senso un bambino ricco che aveva tutto e quindi sto bambino ricco che aveva tutto che sua mamma lo riempiva di Gormiti io ti giuro sua mamma lo veniva a prendere dal campo estivo e gli dava toto ho preso i Gormiti 20 bustine di Gormiti e ovviamente trovava un sacco di doppioni dato che ero suo amico una volta è venuto al campo estivo mi ha regalato c'è proprio con un sacchetto tipo della Conad pieno di Gormiti fa Fabio questi sono tutti i miei doppioni li vuoi te li regalo sì grazie dammi tutti i Gormiti immagino il piccolo curo che tipo i suoi occhi iniziano a sbrilluccicare tipo è davvero a sbavare a schiumare mi si girano gli occhi allora quella è una possessione è un po' diversa comunque per commentare poi li ha rivenduti tutti per i pupazzetti in Antic in realtà li ho persi no no va bene basta al gioco al gioco Cuglio parliamo dell'IPD Antic eh parliamo dell'IPD Antic dai è un peccato non parlarne allora l'unica cosa che mi interessa è che quando che quando morirò farete la serata coccodrillo su Antic come ti ci giocavi da bambino no vabbè quando vorrei diciamo la serata Cuglio cioè non su Antic no no aspetta Cuglio dato che prima ha tirato fuori lui farà un video strappalacrime in cui dirà tutto quanto come gli mancherai come Antic è in porta nella sua vita come l'ha l'ha segnato e farà tutto un discorso alla differenza che io Cuglio lo conosco davvero è questa la differenza Cuglio è amico mio ma tu il video lo farei su Cuglio lo farei su Antic lo farei su Antic è morto il tizio che ha disegnato Antic sì va bene no io mi aspettavo quello che era Cuglio che dicevano su Umberto tipo ah quei che dicevano Biker Mice da Marte scusate ma quello che accennava i Biker Mice da Marte no niente quelli sono la versione stupida dei Tartos con le moto come gli Stritchhark come tutti i tentativi no gli Stritchhark un paio io li avevo sì però erano tutte cose che erano nate per perché per il successo delle Tartos che anche anche le Tartos è interessantissima come roba a livello di IP perché perché viene da una cosa underground che non ha nulla a che vedere con un prodotto per bambini e ne è uscita una serie di prodotti per l'infanzia e quello è interessante esatto oltretutto ispirato a questo prodotto Daredevil bravo bravo l'ho sentito ma si parlavate delle Tartos scusa il clan del piede ah è vero è la mano ho detto una cazzata hai ragione a me da così ridere il clan del piede il clan del piede adesso lo sai comunque Biker Mice stanno i Tartos come gli Snorky stanno i Puffy poi gli Snorky erano lo stesso universo sapete cosa a me era piaciuto che tra l'altro sono derivativi i Puffy cosa ti era piaciuto il film che avevano fatto c'era una scena che io letteralmente guardavo in loop e io potrei guardare quella scena all'infinito perché era il combattimento tra Raffaelle e Leonardo incazzati come delle bisce l'uno con l'altro che si prendono a cazzotti fortissimo dove Leonardo fa la persona tra virgolette matura dice ok senti vaffanculo me ne vado hai ragione tu fa quel che vuoi addio gira i tacchi tempo due secondi Raffaelle viene rapito preso di malo modo messo KO da un gruppo di persone che lo portano via per far cose e Leonardo tipo si gira sente le si urla corre velocissimo e non vede più nessuno e tipo lui dice no cosa ho fatto è tutta colpa via spoiler la scena lì mi piaceva spoiler comunque lo zio Dario di Twitch dice che sua figlia gioca con i personaggi delle tartarughe ninja che erano suoi quando era piccolo che cosa carina molto bello mi piaceva un casino delle tartarughe si avevo delle tartarughe avevo un po' di roba mi piaceva un botto e che ero grandino quando sono arrivati i giochi per cui iniziavo a giocare meno quindi avrò avuti due o tre quando sono arrivati i giochi adesso li monti i giochi 7-8 anni si in tutti i sensi non so quando sono arrivate le tartarughe in Italia tra l'altro io ricordi magari hanno già arrivate io avevo visto tipo entrambe le versioni sia quella vecchia figlio maschio scusa avevo letto figlia non so perché avevo letto male scusami zio Dario anche mia figlia ha giocato con i miei giocattoli dell'epoca si è imbangiata con i suoi dei tiri un bicipite di Big Jim e sotto era blu cos'era un terminator perché è blu sotto praticamente aveva il meccanismo per fare il bicipite praticamente se togli tutta la pelle è un terminator ma che bello quando due girate in uno allora era dell'87 la sera è arrivata dall'è arrivata nell'89 io sono nato nell'89 che a me faceva un botto che c'era questo tizio con la maschera da hockey che è inizialmente cattivo poi diventa buono Casey Jones possibile io non ricordo di nomi non me le ricordo niente proprio perché non li guardo da allora non è mai cattivo Casey Jones però ma è un giustiziere è un vigilante nella serie animata agli inizi diciamo non avevano molto buoni rapporti ma che bell'uomo le avevano ammazzate poi gli è passata sì ricordo che era un gnoccone e aveva i capelli lunghi molto da emo ma se parliamo di IP di successo sotto mille punti di vista non possiamo non menzionare i pokemon partiti come giochi è l'IP è l'IP di successo è l'IP è l'IP più di successo del mondo e pensa che il fatturato di Game Freak deriva solo in minima parte ormai dai giochi no sono quasi tutti peluche sono quasi tutti peluche e merchandise peluche li vendono un sacco vogliamo parlare poi del successo del gioco di carte collezionabili di pokemon che soprattutto ultimamente post pandemia ha fatto pochi ci giocano no pochi ci giocano secondo me sono più quelli che collezionano perché sono dei bellissimi prodotti da collezione sono fatte veramente bene ho visto gli artwork di quelle nuove sono boh hai visto il video di Saidonia in cui parla del quando le spacchetta guarda della mega truffa quello l'ho visto quello l'ho visto ho visto il coso ma non ci ho cliccato perché Saidonia mi fa un po' strano non lo so no ciao Saidonia è carino no Saidonia è così carino il mio sogno mi inquieta quando fai live con Sabaku è un giorno diventare amico di Saidonia è il mio obiettivo nella vita e andare a catturare i volumi facciamo insieme lo sai lo sai vero che tu non devi conoscere i tuoi miti te lo ricordo lo so è già successo infatti ci sono rimasto male però cosa è successo però Saidonia Saidonia non mi può deludere non mi può deludere Saidonia la tua webcam Umberto si è un po' non l'ho messo a fuoco ecco ah ok no pensavo che fossi blugato per un calo no io pensavo in realtà che improvvisamente ci fosse freddo perché l'MF si è alzato al 5 e c'era un cazzo di fantasma da te raffreddamento niente ultimamente gioco fosmofobia lascia stare mi ha traumatizzato i giochi ecco i Pokémon sono l'esempio di un EP estremamente di successo partita come un semplice videogioco e che nel tempo la sua la sua fonte di introiti maggiore è diventata tutt'altro rispetto a quello da cui era partita soprattutto come un videogioco indie perché comunque il primo era di una piccolissima casa di produzione di videogiochi era Game Freak e adesso adesso sono i videogiochi che sono subordinati a tutto il resto perché Game Freak non rinvia mai un gioco ma fa uscire ormai almeno un titolo all'anno Cristo Santo quest'anno ne escono due eppure si fa cagare questa è la cosa eppure si fa cagare e che fa cagare perché ne fanno uscire uno o due all'anno esatto perché hanno un team ristretto e hanno poco tempo per fare i giochi ma i giochi devono uscire perché sui giochi si basa tutto il resto i peluche dei nuovi Pokémon le carte dei nuovi Pokémon quindi quel gioco deve uscire a novembre se no darmi di ordinare Violetto sono cazzi beh che in realtà sono cazzi relativamente perché comunque non è che tipo quello che dell'anno prima non funziona lo stesso no no sono cazzi perché devono tenere alta la hype no è solo perché continuano a salire ma in realtà non so quanto ne avrebbero effettivamente economicamente bisogno però l'hanno dato può buttare mi pare 50 milioni all'anno che non mi ricordo quanti anni perché è una cosa molto vecchia che non andava fallita tu immagina un'azienda che butta 50 milioni all'anno e non va fallita allora più da 10 anni che abbia i soldi per rallentare il ritmo è ovvio ma è che fa talmente tanti soldi con l'uscita dei nuovi videogiochi che deve farlo per continuare a fare i soldi non perché se no fallisce si si è per questo che io preferisco il team di Zelda perché mi sta facendo effettivamente bestemmiare perché porca troia quando esce il 2 sono incazzatissima ed è per questo momento che in ficca esce subito perché se no Ellie si incazza perché Zelda porta molti meno soldi allora ogni gioco sono pochissimi i giochi di Zelda che hanno fallito sono pochissimi si possono contare sulla punta dell'epoca sono quelli per i portatili che hanno uno sviluppo meno interessante meno corposo rispetto a quello per le console fisse quelli per fisso tendenzialmente a parte forse la generazione Wii sono stipresati tutti dei gioconi vabbè pure per la Wii erano buoni sì Twilight Princess Skyward Sword no quello non c'è giocato quindi non posso dire Twilight Princess bellino bellino nel senso che la dinamica di gioco era carina ma pure l'ambientazione poi era più ripetitiva dopo due volte che la facevi ti rompevi il cazzo a diventare luco e non potevi dobbiamo ritornare Twilight Princess è ok Skyward Sword non è uno Zelda non è uno Zelda e pensai che è l'origine si sono fatti per donare si sono fatti per Ocarina e Maggiore sono i miei preferiti però si sono fatti per donare con Breath of the Wild che è un cazzo di capolavoro Bottivi è bellissimo un cazzo di capolavoro anche il problema perché raga Link Link qual era Spe è il mio preferito ti dico a me non mi piace da bambino perché è un mini scappo però poi ci ho iniziato pure a giocare perché è un po' più difficile è quello è bellissimo Link's Awakening mi hanno regalato che lo volevo bello è patato è piccolo e la bello perché lo fa vedere al monitor non alla camera oddio lo sanno tutti conosco la la copertina di Link's Awakening è troppo carino e niente no vabbè il mio top non è maggiore ho proprio lasciato il cuore perché è molto particolare rispetto adesso io li giocherò grazie al fatto che ho il come si chiama l'abbonamento perché hanno messo sia maggiore che a Link to the sia che ocarina posso giocarli tutti e due capolavoro bellissimi parlando degli hippie pure di altre cose e così pensiamo anche al fatto che come le ocarine sono andate a ruba dopo ocarina off time perché sono fighissime nessuno sapeva che cazzo erano ocarina dopo ocarina off time davvero c'è stato il botto dell'occarina credo che tu abbia ucciso culo guarda sta morendo guarda non lo guardi sul botto delle ocarine dopo ocarina ti voglio bene Davide ti voglio bene dai credo che l'Anna in Conan costruisasse l'occarina no ma tutto credo che Zelda non abbia l'IP sull'occarina quindi non c'è un centesimo sull'occarina però se compri l'occarina griffata l'occarina griffata sì ma si avevano tirato fuori a una certa forse l'occarina da linkare con da linkare giustamente l'occarina con qualche console non non era non era ocarina of time con l'N64 era credo col gamecube ma l'avano tirata fuori anche come accessorio da da gaming Lorenzo ha gli altri due e adesso dobbiamo prendere link e Zelda anche però ecco io sostengo il fatto comprando le loro cazzo di statuette alla Nintendo ok però rispetto è quello fatto se lo possono permettere come se lo possono permettere con Super Mario perché non fanno i soldi che fa Pokemon e la maledizione di Pokemon è un po' quella perché poi le idee sono dei giochi ce le hanno ancora ma non hanno il tempo di sviluppare questi giochi secondo me però non potrebbero fare nel frattempo scusa un'ultima una cosa veloce non potrebbero fare nel frattempo mentre sviluppano i vari giochi da vendere così a manetta perché faccia i soldi non mettono un altro studio cioè sempre Game Freak però mettono una parte apposta all'albero un altro giochi ma dice guarda che quello di Diamante Perla non è fatto da Game Freak Diamante Perla non è fatto da Game Freak Scarlatti Violetto e non mi ricordo adesso se l'hanno annunciato LPA di sicuro non è cioè Leggende Pokemon Archeus non è non è come si dice non è sviluppato dallo stesso team che aveva sviluppato Swash cioè Sword and Shield che a loro volta avevano un altro team per sviluppare DLC quindi in realtà stanno differenziando il lavoro e che sono pochi sono comunque pochi per cui tra l'altro sono anche hanno ancora anche delle idee perché secondo me a livello di idee funzionichiano anche ancora soprattutto il Leggende Pokemon Archeus come idee funzionava molto è che non hanno esatto non hanno il tempo di bianco e nero manca a tutti quella a me no perché non l'ho giocato giocalo bianco e nero io ti giuro è è il più bello cioè a livello di è il più bello di trama ed è uno dei meno venduti infatti non lo puoi giocare perché non hanno fatto nessuna bianco e nero è il naturale picco di un'evoluzione videoludica che è partita con rosso e blu con rosso e verdi in Giappone e da noi con rosso e blu è il naturale picco che raggiunge perché la serie Pokemon fino alla quinta generazione è lentamente cresciuta con i suoi giocatori e dalla sesta generazione in poi da X e Y invece si è tenuta sempre su standard è arrivata così è iniziato qui ci sono rosso e blu è salita è salita è salita è arrivata alla quinta generazione bianco e nero e poi Game Freak ha fatto nope e poi è rimasta piazza questa è la storia io lo dico con una trama allora la questione è che tipo anche Platino a me era piaciuto un fottio quindi ero arrivata Platino wow 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 è arrivato bianco e nero ho detto bene ok basta qua cioè nel senso questo è il più bello è veramente il più bello e ti dico una delle cose che mi fa dispiacere è che è anche secondo me troppo corto rispetto a quanto avrei voluto cioè e rispetto agli altri c'è un po' meno da fare è meno è meno lungo il postgame il postgame è deludente cioè ti fa godere come un riccio fino a che arrivi al finale del gioco poi dopo effettivamente io l'ho giocato poco dopo aver finito il gioco mi piace di giocare il tuo pokemon lo consumavo un po' perché ero in università dovevo studiare non c'avevo tempo ma un po' anche perché c'era poco da fare allora secondo me non è vero secondo me non è vero che è l'unico con una trama perché comunque no sì no unico togliendo la generazione subito dopo quella di YY che per me è stata diversa con Sun and Moon e anche con Sword and Shield in realtà una trama c'è non siamo minimamente ai livelli di nero e bianco però una trama c'è un minimo di sforzo in quel senso lì c'è il problema è che passando al 3D si vedono i limiti tecnici cioè danno fastidio i limiti tecnici però io mi chiedo dove sono andati a finire quelli che hanno scritto quella trama lì cioè dove l'hanno messi l'hanno messi in un bungalow sottoterra e l'hanno basta ciao in un bungalow sottoterra in un bungalow in vacanza sottoterra esatto in un bungalow sottoterra no è un bungalow sottoterra non ha la struttura per poter reggere quindi ah ok oh no cringhe no bastardo io ce l'ho come audio cattivo cattivissimo sei proprio cattivo basta io dopo che vi ho invitato siete proprio cattivi vi parlo più tutti due ti hanno insultato entrambi no ti vogliamo bene Ellie anche io me ne voglio cari comunque scusate un momento dolce visto che si era nato ad esempio parlando di Tardos ha IP nate in modo strano e bizzarro che poi sono esplose mi sovviene un'altra IP che è esplosa in questi anni Minecraft che è più indie di quello di essere un gioco fatto da uno solo fatto per i cavoli suoi che è esploso a livelli mostruosi diventato un IP e se stesso comprato ovviamente comprato da Microsoft e pompato a sua volta per diventare e libri e fumetti e fumetti stranieri che si ispirano allo stile allo stile di diciamo di allo stile grafico di Minecraft per fare dei fumetti che però sono apocrifi ma io ritengo che comunque Minecraft guadagni di più dal gioco stesso che dà le cose di contorno perché si hanno fatto persino c'è poca roba sì però si parla più dell'iconicità io adesso non ci ho mai giocato a parte qualche minuto con mia figlia costretto ma se vedo una spada o un piccone tutto spadrettato in giro so da dove viene io ci passo le ore è come è come vedere due baffi e un cappello con la M e mi è quasi più veloce che vedere due orecchie e un naso ma che carino madonna mia sarei a far una serie di Minecraft sì lo sai i nego di Minecraft sono effettivamente un po' mind blowing però sei 40 anni roba mattoncini che imita roba mattoncini madonna il fatto che Minecraft sia da bambini è venuto dopo in realtà ma era solo era solo una provocazione lanciata nel nulla lo sai come la penso se l'hai presa in realtà no non me la sono presa ma in realtà è una cosa mainstream nel senso che tutti sono convinti che Minecraft è un gioco da bambini nato per i bambini ma non è così in realtà è un gioco indie nato solo sono preso i bambini se lo sono preso i bambini grazie a YouTube perché poi i bambini non ci giocano i bambini lo guardano Minecraft è partito da quel meme get out of my room no no ci giocano ci giocano mannaggia se ci giocano ragazzi che morti quando vanno nel mondo di Minecraft abbiamo dieci anni di differenza io e mia cugina ok il primo gioco che lei ha giocato tramite iPad ok che aveva penso cinque anni cinque anni cinque cinque sei anni è stato Minecraft a in tipo seconda barra terza elementare lei veniva lì mi diceva mi spiegava sì no perché adesso posso fare questo 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 e mi faceva vedere tutto e io ero lì io la tua età non capivo neanche cioè vabbè mi stampavo i fogli a colorare però insomma lei invece si costruiva le cose su Minecraft e io ero lì basita ok vabbè altra generazione però comunque lei ho visto cioè il primo gioco che ha giocato è stato vero è stato Minecraft e io senza che glielo dicessi o qualcuno glielo consigliasse ok è stato bello perché sinceramente è un gioco indie che è partito dal niente che continua comunque a collegare tutte le generazioni passate e anche le future ecco il punto può piacere a tutti e continua a piacere eh sì perché sai qual è poi il trucco cioè che poi vabbè lì è un trucco ma poi non è esattamente un trucco è che un gioco come tutti gli altri giochi però che si crede un giocattolo un po' come The Sims The Sims cos'era? Era la casa delle bambole animate che te le facevi crescere ma era la casa delle bambole tu ti costruivi la tua casa delle bambole con le tue bambole dentro che vivevano la loro vita e qui è un Lego che puoi espandere all'infinito e non hai limiti di pezzi c'è anche una storiella piccola però alla fine è un gioco che si crede un giocattolo e ha tutte le regole di un giocattolo non a caso poi i bambini ci riescono matti poi comunque però quel fascino che avevano The Sims e GTA e ci puoi andare online con gli amichetti attaccare alle console per uccidere delle persone non ce l'ha Minecraft vabbè Minecraft se vuoi uccidere gli amici io lo adoravo perché spargevo sangue bloccavo i miei sims a porire di fame ero un sadico all'ucidante ma guarda che lo faceva Giorgio è un atore e uccide i suoi personaggi giusto un vero giocatore di The Sims ok ha almeno una volta creato una piscina ci ha messo un cazzo e gli ha tolto la scaletta o addirittura ha murato perché nelle versioni successive uscivano da soli in casa anche senza scaletta e non si fa devi rimanere dentro io ho fatto sedurre al marito la sovella della moglie è stato molto bello no terribile è morta coltellato no non mi ricordo se se n'è andata poi la morte quando ci giocavo io tutti si accoppiavano con tutti che bello era sausage party sì è la morte come tanto sì esatto era un sausage party capolavoro il trash e sausage party è un capolavoro per un sacco di cose vi faccio una domanda per rientrare un attimo nel nel tema qual è stata secondo voi nell'ambito fumetti l'ip che più di tutti è riuscita intendo non un ip di cui esiste anche il fumetto ma un ip partita dai fumetti in un modo o nell'altro che secondo voi è stata quella più riuscita che è riuscita di più a partire dai fumetti e differenziarsi in altre cose e prendere uno spettro ampio di di pubblico batman 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 lo conoscono tutti anche se non lo leggono vogliono tutti c'è Mark P.B. Strello o spider-man ma lasciamo per ok sa chi è joker e dice che è un capolavoro i super vabbè i super togliamo i supereroi troppo facile i pelati i one punch cioè facevano i men tutto allora a mio parere io direi sia Dragon Ball che Naruto One Piece e direi anche Attack on Titan c'è pure un negozio One Piece in Giappone c'è il negozio dedicato solo roba di One Piece effettivamente questi sono Naruto comunque c'è anche per quantitativo di beh consideriamo anche i cosplay cioè che hanno anche lì a livello globale no comunque non siamo One Punch Man assolutamente no One Punch Man se tu prendi il quarantenne medio non è detto che li metti davanti Naruto e lo riconosce no Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball però sono cose che hanno comunque avuto una loro vita alla fine più o meno limitata sull'anime il manga Batman ha avuto serie tv è apparso in film c'è i supereroi ha avuto Adam West perché più che altro pure aveva detto mettendo da parte i supereroi è quello il punto mettendo da parte i supereroi è ok però allora bisogna capire i più riusciti in che senso cioè per la qualità media di tutte le sue incarnazioni o proprio per quanto è diventato capillare nel nel mondo il marchio partito dal fumetto per quanto è diventato popolare ma anche per la quantità di incarnazioni per la quantità di incarnazioni ok quindi quantità non qualità ok quantità secondo me Dragon Ball ci sta nella descrizione perché tra serie tv film videogiochi statuette ma non è solo quello è anche quanto a te dei mari te citano per dire c'è stava cosa sui simpson che citano pokemon e addirittura c'è stato un mondo sui pokemon dove vanno nel videogio dei simpson per dire non so se allora il problema che io vedo con i gaffonesi è che non me ne viene in mente una che esca veramente che non abbia avuto un casino di produzione no non è solo quello è che che esca veramente o da un limite di nicchia o da un limite di tempo cioè non c'è una roba eterna come stiamo vedendo con batman che è eterno ormai cioè è una roba che trascende lo spazio del tempo in un certo senso un dragon ball un po' sì però è di nicchia dragon ball leggermente però rimane un po' nella nicchia la problematica secondo me è che principalmente Europa e America a livello di rapporti così da sempre e quindi di conseguenza anche a livello di fumetto batman l'abbiamo sentito da sempre mentre l'avvicinamento all'asia cioè quando ero piccola io comunque c'erano i primi veri rapporti un po' più stretti quindi cioè c'erano effettivamente intero bottoni ok ma invece bottoni magari se io lo dico a mia cugina di adesso però sono morti 13 anni non sa cos'è Gundam magari potrebbe essere Claymore però mi ha fatto pensare a cosa Godzilla Godzilla infatti volevo volevo proprio dire Godzilla che non viene dai fumetti ma non sa che però degli anni 50 che se riesce un film di Godzilla o qualcosa legato a Godzilla o il costume di Godzilla o la statuina di Godzilla dov'è il costume di Godzilla dove si compra lo voglio se ti vuoi vestire dal dinosauro regolarmente quel dinosauro assomiglia a Godzilla anche se è viola anche se è viola no vabbè sicuramente io non visto che si parla di fumetti chiaramente quello viene da una serie di film quindi non l'avevo non l'avevo contato come fumetti il secondo me però comunque della roba orientale solo Dragon Ball è riuscito in parte a essere così in parte tra l'altro perché secondo me la diciamo la casalinga di Voghera conosce Batman non conosce Dragon Ball no tutte le mamme conoscono Dragon Ball tutte le mamme e per loro ogni personaggio di Dragon Ball è Dragon Ball la casalinga zitella di Voghera non conosce Dragon Ball e conosce Batman perché la casalinga di Voghera purtroppo ha un figlio che gli urla Kamehameha in salotto no gli urla onda energetica sera degli anni 90 onda energetica comunque tra la roba giapponese è l'unico che vedo così espanso proprio a livello di che esce dalla nicchia e diventa una roba per tutti già One Piece che sarebbe la cosa più grande che ha la nicchia del fumetto giapponese non è a questi livelli perché One Piece non lo conoscono i genitori Dragon Ball vorrei fare una proposta Kuro dato che l'hai detto prima a votazione per tutti quanti tu a Luca Comics ci vieni quindi con il costume di Godzilla se me lo regalate sì ovviamente facciamo colletta anche dopo te lo metti anche giuro che te lo compro e te lo indossi tutti i giorni ci giro tutto il giorno e vado a fare i firmacopie così e faccio anche il suono sì sì vado in giro anche per salda ti faccio mandare allora adesso lo cerro no no perché vado veramente se mi prende un costume proprio bello di Godzilla io ci vado in giro e per mi mettere la gente a casa e ti amo questo l'hai fatto è Godzilla no è Godzilla cioè che cazzo voglio quello confiabile vado in giro così a distruggere Luca non disponibile no quello gonfiabile io ti do io voglio quello tipo simile a quello del T-Rex quello del T-Rex quello del T-Rex stai guardando su Amazon sì sto cercando lo facciamo noi lo volevo la mia laurea poi non poi è sfumato allora ti diamo la sua laurea mi vesto da la laurea vai a tenere il discorso finale vestito da Godzilla ah in quel senso ok dai 40 euro te lo compro ti vesti da D-Landog no non compramelo dai almeno cosplay di D-Landog ma sì ti do quello da T-Rex allora aspetta fammi vedere con la maschera di Iron Man io sto dicendo cos'è la Godzilla letteralmente vado col casco di Iron Man e sotto Godzilla che bello è Ironzilla curo Ironzilla coi capelli spallati di Dragon Ball questo è bello costume caro dai costa solo 8000 euro minchia questo è secondo me è abbastanza abbardabile ce la possiamo fare ma ma ti allegano anche la città da distruggere con le persone dentro spiego di sicuro abbiamo le bimbe di Kuro che sarebbero molto felici di essere distrutte da te quindi ma ste bimbe di Kuro chi è il canale le bimbe di Kuro chi è che ha quel nickname dai non lo so però la questione è che se sono delle vere fan ok devono essere felici di essere calpestate quindi va benissimo nessuno calpesta come Godzilla esatto soprattutto con 8000 euro di costume raga Irogonzilla ci sta qua aiuto però giocattolo no mi deludi vendetta mi deludi e vabbè se lo costruisci c'è Irogonzilla è vero esiste Irogonzilla ah Ale Ale se tu fossi venuto alla live in cui l'ho invitato lui mi ha spiegato dove l'ha preso ora tu non lo saprai e sarà un segreto nostro bello eronzilla e di tutti quelli che vedranno la live no no perché quello lì praticamente me l'ha tenuto da parte il mio amico fumettaro gli ho chiesto quando finisce l'hype cosa ne fai dell'espositore di Kaiju numero 8 e lui mi ha detto boh lo butto via me lo dai a me ma si vientelo a prendere quando è finito l'hype tra qualche mese e settimana scorsa me lo sono portato a casa dal centro di Pavia in spalla così che bello quindi è ufficiale che fa l'hype per Kaiju numero 8 sì ok strano i Kaiju non muoiono mai non l'ho letto però solo perché Kaiju nel nome no la domanda è una cosa è diventato decente o è sempre mediocre e a quel punto mi chiedo perché ti sei portato qualcosa come nella novella sposa mi piaceva era figo era molto figo mi sembrava un oggetto decorativo di spessore la risposta vera è mi piaceva punto tranquillo ma poi se ci sono di mezzo i Kaiju fanno sempre bene sì Kaiju è Kaiju io ho esordito a Luca con una storia su dei Kaiju io non so cos'è un Kaiju e sono i mostroni Kaiju è un mostrone giapponese Godzilla è un Kaiju lo usano in metà delle serie attuali la parola Kaiju ma il fatto è che io principalmente devo ammettere qualcosa che ho scritto Kaiju quindi non so non mi sono informata cosa volessi dire conosco Angul conosco cosa vuol dire Kaiju adesso lo sa no adesso lo so è un Kaiju stiamo un po' peccando di caugenza ragazzi mi sembra che ci siamo afflosciati abbastanza direi sì dai possiamo afflosciarci come un sacchetto vuoto con sto caldo è anche facile vabbè ragazzi che dire con le P è andata così stavolta però almeno ci siamo divertiti posso proporre il prossimo tempo a piacere va bene dai in diretta vi spoileriamo cosa vuoi cosa vuoi cosa vuoi parlare scena in bombe scena in epiche nei fumetti che magari non abbiamo trovato tali per dire scena in epiche nei fumetti che però non abbiamo trovato epiche cioè quindi epic fail semplicemente è una scena bomba è bella però per qualche video non ti ha fatto impazzire epic trattino fail ok sì sì ci sta era la battuta del ma sai in mancanza d'altro se proprio non viene fuori niente di meglio se proprio vogliamo gonfiarmi ah tanto non ci sono settimana prossima quindi ma posto fatelo fatelo va bene ma forse non c'era mai la settimana prossima ma questa dovrebbe essere l'ultima ragazzi di nuovo no forse è l'ultima non lo saprò mai allora prendo un appuntamento per l'unica prossima ragazzi no aspetta chiedo aiuto da voi della chat cosa aveva detto l'ultima volta Simone qualcuno si vorrebbe oltre a me no perché nessuno ascolta Simone ecco vai io sono convinta che avessi detto a quella prossima chiudiamo per sempre e neanche Simone ci sta guardando perché infatti non ci scrive niente non ci fornisce informazioni si è camminato per strada così a casaccio facendo la faccia a farci sentire l'urra di bambini che scappano da lui per fare un po' di casino voleva comunicarci qualcosa probabilmente che è tenuto in ostaggio dei bambini se volete degli organi freschi lui ce li ha no Davide no abbiamo goal in chat interessati però la scelta è peculiare nel senso potreste scegliere anche qualcos'altro tipo Umberto Umberto è molto il tipo da mangiare potreste scegliere un bel secondo me sei molto invitante da poter sta di pollo no tutto sta di pollo Umberto un giorno sarà tipo ho mangiato così tanto di cotolette e se ho diventato una cotoletta non mi mangio cotolette da settimana scorsa eh sì cazzata cavolimile compro due ogni volta che faccio una spesa da su Amazon se sei un vero milanese la cotoletta è la milanese la devi mangiare tutti i giorni poi muoio però Simone ha parlato di fumetti slice of life di chi si può in viascia dove c'è uno slice of life pieno di bambini in Everland stavo facendo un po' slice of life sono dei bambini che campeggiano l'inizio di scusate è un po' slice of life scusate mi è venuta adesso l'IP l'IP che ha superato che praticamente c'era più tempo Hello Kitty quante cose producono con Hello Kitty ed è appena appena un scarabocchietto solo frontale però è nato in realtà da una storia super carissima da un padre che voleva a parte che la disegnatrice originale è disperante a guardarla perché sembra Hello Kitty però vecchia io sapevo che era una bufala quella Ellie del padre con la figlia con la figlia muta e che quindi fa il gattino senza bocca no io sapevo solo che era stato disegnato per una figlia che le piaceva molto alla Alice in Wonderland in pratica però è una donna che l'ha creata è una donna è una donna nella simpatica serie di Netflix The Toys That Made Us credo i giocatori della nostra infanzia c'è la puntata su Hello Kitty e quando parla non la puoi guardare in faccia perché ti immaginati una una anziana casalinga di Yokohama truccata da Hello Kitty tutta rosa con i fiocchetti e guardarla ok adesso devo vedere quella puntata rispetto rispettissimo non c'è scritto come l'ha creata è un più potente collega no peraltro da quel che ho capito era per poi si è sposata nel 76 quindi dubito che avessero un figlio prima in Giappone per si è ispirata però attraverso lo specchio interessante si è ispirata ad attraverso lo specchio per il nome Kitty White con il nome ispirato al gatto Kitty sì che cosa interessante carino la cosa bene è che non viene detto qual è stato il primo prodotto a brand Hello Kitty niente non c'è scritto è avvolto nel misterio sto cercando di leggere l'han creato però poi è diventato boh cosa e adesso è tutto ci fanno i cartoni ci fanno il merchandising l'ha creato la Savio la Savio si occupa di creare personaggi e relativa commercializzazione per cui probabilmente fanno i personaggi per vendere le cose con i personaggi conta che esiste un vibratore è letteralmente nata come in P no secondo me esiste il vibratore di Batman non può non esistere il vibratore di Batman ho paura di questo come siamo finiti con la conversazione scusa sembra veramente un gadget che potrebbe tirare fuori Adam West dalla sua cintura come fa a non esistere quando è ad esempio in una serata romantica con Robin meno male dopo il batto dei rebellenti vesquali insomma è la cosa meno male e tacciamo sulle palle di Dragon Ball volete che vi rispondo amici l'hai trovato vai esiste un un ring che è chiamato Batman e ha forma di pipistrello da mettere manda l'immagine manda l'immagine però non manda l'immagine ma non ci si vede niente in realtà anche perché a sto punto è un prodotto ufficiale oppure no ce ne sono un sacco ma il ring di The Lord of the Rings non sarà mai ufficiale quello proprio con l'anello del potere no non è ufficiale però ufficiale esiste è una figata Giorgio comunque sì no spero che esista sarebbe bellissimo poi mentre lo usi dice un anello per domarli roleplay incredibile ci sono le spade laser se vi interessano vabbè quello era quasi scontato dai sì mi sarei sorpreso se non fossero esistite onestamente che l'hai trovato sì sì l'ha anche già comprato ho visto ho visto roba assurda no su AliExpress ma non è disponibile sto vedendo cose che non dovevo guardare oggi grazie cose che non possiamo far vedere per cercare questa cosa molto molto scena no ma questo non ha niente a che fare con Batman Ellie se si chiama Batman è un pipistrello e basta è un pipistrello però quelli di dati proprio di C-Comics non ci sono che peccato ho i miei dubbi che adesso sono entrato sono americani cioè sono entrato su questo sito e su Facebook mi appariranno solo ste robe ma più che altro Giorgio più che altro chi legge i fumetti non scopa e quindi non ha senso farli origini quello perché non scopa gli serve scusa aspetta Umberto ha rimbattuto Cubo sei mai entrato in un hai mai cercato i sex toys di Demon Slayer ma per fortuna no ragazzi mi ho mandato io una cosa però immagino ci sia il boccaglio di Nezzuko non c'è solo il boccaglio di Nezzuko c'è proprio Nezzuko con la bocca aperta che brutta cosa Davide mamma mia guarda oggi oggi ne ho visto quello di cose oggi in laboratorio non ho visto guarda è stato una serata e gli incubi li avrò per quello no 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 ma ci sono anche degli altri c'è anche degli altri ma Squirtle basta e avanza col nome che c'ha sì c'è pure per Charmander Bulbasaur e Pikachu come scegli? Bulbasaur sì dai ho detto giusto non dire stranzato no che sto pensando a nessuno che ho andato in latte dicevo io direi di chiuderla qua perché è stato molto bello prima che ci bagno tutti da qui basta 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 ma in realtà si può parlare di queste cose sì però fa niente è una scusa per chiudere sì vabbè ragazzi arrivati a questo punto direi che la prossima puntata è filmografia completa di Axel Brown e chissà già sa quindi buonanotte io so è stato bellissimo e divertitevi poco con gli infiniti prodotti tratti dalle IP famose e leggete Astromica ciao con i fumetti che vi mangia Simone ciao oppure no se vi arrivano se vi arrivano forse vedo ancora forse un giorno si fermerà concludo 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 adesso addio no sta ancora andando no direi proprio di no siamo qua per sempre amici siamo in piccola uno dei venti no è ancora aperto che falle sta laggando come secondo me si chiuderà domani tra qualche ora c'è lui e ci rimaniamo noi esatto casca no perché ecco vabbè è pieno di terra di mare la trasmissione è pieno di mare Grazie.